Siamo in Paganello con Eden Schoenckler Come stai? Come è facile essere il basso della piramide? Il basso della piramide è molto difficile Ci sono molte persone, è molto pesante Ma è meraviglioso Harden Melons ha avuto la finalità Grazie per questo Grazie, abbiamo lavorato molto difficile Quale è la finalità? La finalità di Poughkeepsie è una buona squadra Abbiamo giocato la finalità in 2002 Paganello è venuto in Paganello Quindi è molto felice per vedere E poi giocare contro loro Sono una buona squadra Spendiamo in stile simili Spendiamo il disc veloce Paganello stavano un pochino All'inizio è venuto in 2001 Noi eravamo nemmeno cosa stavamo E pensavamo che E' perfetto 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 E poi E' un'imperlenza Si è svegliato E' un pochino Ma ora i nostri figli Siamo più oltre E' stavolta E' abbiamo aggiunto Paganello E' tutto E' fuori E' perfetto Stavamo 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 La storia Spendiamo E' un pochino E' un pochino E' un po' Che ci puoi dire Sì La storia È incredibile Ora ora è in casa in mia garage, perché è troppo grande per prendere il planeo e abbiamo vissuto così lungo che mi sembra bello di farlo ancora ma quando vedo l'umbrella e quello che significa per quello che sono i nostri amici e per quello che un team reale può fare, è solo una ricordazione di lavorare e continuare a giocare con la vita e arrivare a Paganello, perché è meraviglioso. Hai venuto l'anno prossimo anno? Per anni ho continuo dicendo che questo è l'anno ultimo anno e poi continuiamo arrivando. Quindi questo è l'anno ultimo anno, ma sarebbe sorpreso se non siamo arrivati. Grazie mille, ringrazio. Grazie mille, grazie. Grazie mille, grazie mille. Grazie mille.